Allora, altro messaggio. Lorenzo dice, faccio qualche considerazione su diversi argomenti. Punto primo, caso Conte, spero che il mister e la società riescano a trovare un punto d'accordo per poter proseguire questa avventura insieme, perché sono convinto che da una separazione ci perderebbero entrambi. Se il nostro condottiero dovesse restare il prossimo anno si dovrebbe puntare forte sulla Champions e sulla Coppa Italia, giocando con i titolari in entrambe le competizioni e fare un campionato da secondo o terzo posto, che sono convinto potremmo tenere senza problemi, con possibilità di turnover nelle partite meno impegnative. E questa è la sua idea su Conte. Poi, nazionale e codice etico. Per quanto mi riguarda la nazionale è morta a Berlino nel 2006 e mi dispiace che non sia stato applicato il codice etico con Chiellini, magari esteso a tutti i suoi compagni di squadra per solidarietà, in modo da non farli affaticare troppo. La mia speranza è che la squadra della FIGC venga sbattuta fuori al primo turno. Fino alla fine Forza Juventus, Lorenzo Gobbo dalla Capitale. Grazie mille, Lorenzo. È andato giù duro, è un bel teckel. Sì, sì, lui è così, ma ha ragione, nel senso che, vabbè, adesso sul discorso Conte, vabbè, cioè sul discorso più che altro della prossima stagione. Sì, perché no? Puntare sulla Champions nel senso ad andare più avanti possibile, quindi lui dice far giocare in campionato a quelli, diciamo, i panchinari o comunque non tutti i titolari e invece mettere i titolari nelle due competizioni che nel senso ti mancano da un po' troppo tempo. La Champions dal 96 lo sappiamo, però anche la Coppa Italia. Anche la Coppa Italia perché arriviamo lì a quel 9 che se riusciamo ad arrivare a 10 insomma essere i primi anche in quello, senza avere, anche io sarei d'accordo. Perché no? Provare, lì bisognerà vedere chiaramente insomma chi arriverà.